Musica E' bella a tutti ragazzi Benvenuti a un nuovo video Questo video sarà un video abbastanza corto perchè dovevo darvi una brutta notizia La serie Trollcraft Che era attiva sul mio canale L'avevo dovuta per forza bloccare, chiudere Perchè La mappa Non si sa come e perchè Ha avuto una specie di Chunk error Ora scusate c'è questo Tindino Ok Ha avuto una specie di chunk error Alla mappa E quindi ogni volta che noi proviamo a caricare la mappa Sul server Ci da una specie di errore E a volte funziona la mappa Ma per tipo 15 secondi tipo Dopodichè crash E quindi Abbiamo deciso Io e marcus Di stoppare la serie Perchè visto che eravamo anche in due Perchè come avete visto Gli altri partecipanti Non so per quale motivo Ma sono spariti Quindi Niente Abbiamo pensato di chiudere la serie Solo che Ora sto un po' vedendo Cosa fare Come nuova serie E questo Poi vi devo dire Una notizia molto Diciamo bella Perchè Forse Dobbremo ancora vedere Ma cercheremo di Aprire Un server Minecraft pubblico Per tutti quanti voi Per chi vuole divertirsi A giocare Così E Ovviamente Il nome Penso che sarà Italy Professional Come i miei vecchi Server Perchè Non siamo mai riusciti A finirla del tutto La mappa Ma ecco Se noi Dovremmo Iniziare Di nuovo Un altro Server pubblico Dovrei rifare Tutta la mappa Di nuovo A capo A mano Quindi Se noi Decidiamo Di aprire Questo nuovo server Infatti Ci vorrà Del tempo Perchè Dovremo prima avere Le idee Come fare Lo spawn L'intertenimento E queste cose qui Perchè Visto che Il nostro builder Che era anche Un nostro caro amico Che era low code Se vi ricordate Nelle serie Nella serie A volte c'era Infatti Lui Non so per quale motivo Ma Non lo sento più Da un bel po' E quindi Visto che Un nostro Carissimo amico Un carissimo builder Che è veramente Bravissimo Una cosa incredibile Non Non so È scomparso Raramente Vedo online Su skype Quindi Non lo so Comunque Come ho detto Forse riusciremo Ad aprire Di nuovo Un server Pubblico Così Ci divertiamo Insieme Facciamo qualche Evento Così Per Cazzeggio Ecco Bene Vi ricordo Di iscrivervi Al mio canale Se non l'avete Ancora fatto Di mettere Mi piace al video E di Di mettere Mi piace anche A pagina facebook Comunque Penso che A breve Uscirà anche Un altro video Forse Lo stesso giorno Che vedete Questo Oppure anche Il giorno dopo Non lo so Ora vedo Farò Un nuovo video Di un'altra pubblicizzazione Di un canale Come avete visto Ho aperto Una nuova rubrica Per pubblicizzare I canali Che Cerco su internet Così E vedo Che meritano Che hanno Ovviamente Non è che Pubblicizzo Canali Che ne so Hanno tipo Settemila Iscritti Cosa del genere Perché sono già Famosi Per loro Da loro Ecco Magari se loro Fanno pubblicità a me Questo Sono dettagli Però Comunque Vedo Se c'è Non so Dei ragazzi Che hanno tipo 40 iscritti Con un po' di video E magari Sono bravi Non so Fanno Fanno video Con una buona qualità Sono divertenti Fanno gameplay Oppure Vlog Tutto quello che Io vedo Mi piace Mi interessa Ovviamente Chiedo Come messaggio Privato Se per loro Va bene Che io Faccio un video Sul loro canale Cioè Per fare pubblicità Se loro Mi hanno il consenso Io Lo faccio Volentieri Il video Ecco Bene Questo video Può anche Finire qui Mi sentite un po' Giù di morale Perché La serie Trollecraft Mi stava piacendo Era veramente Una bella serie Solo che Purtroppo Abbiamo avuto Questi Questi Disagi Ecco Bene Vi saluto E ci vediamo Un altro video Ciao ciao